Siete in compagnia di SPS Italian. Provate altre storie su sps.com.au barra Italian o scaricate la SPS Radio App. Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS nel quale ci trasferiamo negli Stati Uniti, anche se poi parleremo di politica internazionale perché si avvicina, sembra, si avvicini l'ora della risposta iraniana a Israele e Joe Biden sta giocando un ruolo di primo piano per scongiurare quello che ormai tutti danno per scontato, per poi trasferirci davvero definitivamente negli Stati Uniti per seguire l'andamento della campagna elettorale che si risolverà a novembre con l'elezione del nuovo presidente statunitense, di chi succederà a Joe Biden. Per tutto questo siamo in collegamento con l'ex direttore dell'Ansa giornalista Giampiero Gramagli, esperto di politica americana. Giampiero, buonasera, grazie per essere con noi. Buongiorno a te Andrea e buongiorno a chi ci segue. Dunque, come detto, partiamo da questo allarme dell'attacco iraniano, della risposta iraniana a Israele perché Joe Biden sta giocando un ruolo di protagonista nel tentativo di scongiurarlo. Ecco, vuoi ragguagliarci su quanto sta accadendo nelle ultime ore, Giampiero? Sì, ruolo da protagonista ma nel contempo ruolo un po' spuntato da quando Biden, rinunciando alla corsa alla Casa Bianca, è un presidente a termine e quindi chi parla con Biden sa che non parla con il futuro presidente degli Stati Uniti e può essere meno incentivato a venire incontro alle sue richieste. In una vicenda in cui, come tu giustamente dicevi, si avvicina l'ora della risposta, reazione, ritorsione iraniana a quanto avvenuto a fine luglio prima a Beirut con l'uccisione di un capo militare di Etbollah, milizia vicina all'Iran e poi soprattutto a Teheran con l'uccisione del capo politico di Hamas mentre era ospite del governo iraniano nel giorno dell'insediamento del nuovo presidente iraniano. Che ci sia, che ci debba essere una risposta iraniana da quel giorno, da quel momento, lo sappiamo, l'attesa si è protratta per due settimane, per quasi due settimane e inevitabilmente più passa il tempo, più si avvicina il momento in cui questa reazione avverrà. Mi sembra improbabile che la diplomazia riesca a sventare la volontà dell'Iran anche agli occhi della sua popolazione di rispondere a quella che è stata percepita come ed era nei fatti una palese provocazione di Israele al regime di Teheran. Ciò detto, ci sono sforzi diplomatici per evitare la reazione o per far sì che la reazione assomigli a quella che c'era stata ad aprire in circostanze analoghe, ma meno gravi per l'Iran, quando Israele aveva colpito una residenza diplomatica iraniana a Beirut, facendo tra le vittime un comandante dei Pasdalan, delle guardie della rivoluzione iraniana. Allora ci fu una risposta militare iraniana massiccia nel numero degli ordini utilizzati, ma diretta solo contro obiettivi militari non vicini a strutture civili e tra l'altro venendo da lontano gli ordini iraniani diedero il tempo alle difese aeree israeliane e dei paesi alleati di Israele, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Giordania e altri di intercettare la maggior parte, la stragrande maggioranza di quegli ordini. Questa volta ci si aspetta una reazione militare di carattere più incisivo o più pericoloso da parte iraniana e i negoziati servono appunto, le depressioni servono appunto a cercare di rendere questo passo di Teheran che le notizie di queste ore sembrano rendere imminente con una ulteriore mobilitazione delle forze di difesa israeliane e degli apparati militari degli Stati Uniti nella regione, renderla un passo non irreversibile verso un'escalation del conflitto. Mi sembra giusto ricordare l'ultimo fatto in ordine di tempo che una telefonata del cancelliere tedesco Olaf Scholz al Presidente iraniano, telefonata in cui il Presidente iraniano pur dicendosi disponibile o interessato a sviluppi diplomatici ha però confermato che per l'Iran, anzi che l'Iran ritiene di avere diritto di colpire Israele in risposta alla provocazione subita e che intende farlo. Su questo punto mi sembra che finora le dichiarazioni che vengono da Teheran siano costanti e coerenti e non mi pare che la diplomazia statunitense, in particolare dell'amministrazione Biden, abbia frecce al suo arco per cambiare questa situazione. Tra l'altro anche il Ministro dell'Est italiano Tajani, parlando col suo omologo iraniano, ha detto che, il mio collega dell'Iran mi ha detto che la loro reazione è inevitabile, quindi conferma questa coerenza da parte iraniana. Intanto ricordo a coloro l'ascolto che siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia con il quale stiamo analizzando la politica americana sia sul campo internazionale che sul campo interno e ci trasferiamo quindi adesso proprio nel Nord America perché siamo in piena campagna elettorale che nelle ultime settimane ha subito uno scossone con il passo indietro di quello che avevi definito appunto il presidente spuntato Joe Biden sostituito da Kamala Harris a pochissimi giorni dalla Convention Democratica che se non mi sbaglio ratificherà qualcosa che ormai è già quasi ufficiale, cioè la candidatura di Kamala Harris e del vice Tim Walz, coppia che appunto è nel bel mezzo di un mini tour. Ecco, partiamo dal mondo Dem, cosa sta succedendo per Harris e Walz, quali sono i gradimenti e eventuali cambi di strategie politiche rispetto a Joe Biden? Intanto c'è un cambio di immagine rispetto all'atteggiamento serio ma sempre compassato anche per controllarsi nel timore di qualche sbavatura lessicale o di qualche infortunio sui nomi o sui termini utilizzati di Biden abbiamo una candidata che è molto più prorompente nel rapporto con i suoi sostenitori e usa molto il sorriso e qualche volta anche la risata nell'incontro con il suo pubblico e questo si è già tradotto nel fatto nuovo rispetto anche alla campagna del 2020 di avere un largo seguito, una larga audience dell'ordine di migliaia e migliaia di persone ai comizi democratici, mentre finora eravamo abituati che i comizi di Trump erano molto affollati e quelli dei democratici erano per pochi intimi e questo dato non mi ricordo sembra avere preoccupato anche Trump che lo sappiamo dal 2016, anzi dal 20 gennaio del 2017 ha un po' l'ossessione dei numeri e continua a sostenere che c'era più gente alla sua inaugurazione che non alla prima inaugurazione di Obama nel 2008-2009 nonostante le foto e le testimonianze dimostrino al contrario e la scorsa settimana in una conferenza stampa, ha addirittura detto che c'era più gente al suo comizio che non a sentire Martin Luther King nel giorno del famoso discorso Air Dream del 1963, batisce Trump i numeri in aumento di Harris però Harris scegliendo Tim Walz, governatore del Minnesota, personaggio dalle molte sfaccettature è un insegnante di geografia e di storia di materie umane e un coach di un football americano è stato per 24 anni nella Guardia Nazionale quindi ha anche un passato militare che è stato deputato per 12 anni mi sembra del suo stato del Minnesota prima di diventare governatore dello stato quindi è un personaggio con esperienza, tocca molti aspetti della vita americana però si presta anche, si espone più che prestarsi alle inevitabili punture di spillo dei repubblicani che vi rimproverano per esempio di avere lasciato la Guardia Nazionale dopo 24 anni di servizio proprio nell'anno in cui la sua unità veniva mobilitata in Iraq è vero che lui nel frattempo era stato eletto anche deputato quindi aveva un altro mestiere ma questo non impedisce ai repubblicani di utilizzare questo argomento gli rimproverano per esempio che è andato a insegnare inglese in Cina da giovanotto Walz alla stessa età, è nato nello stesso anno di Kamala Harris, entrambi hanno 60 anni nel 1989 aveva 29 anni, andò in Cina a insegnare inglese in una provincia cinese arrivò in Cina che era il tempo di Tiananmen e i repubblicani gli dicono perché sei rimasto lì e non sei venuto via e lui dice aveva un lavoro da fare, l'ho fatto insomma Walz è oggetto di molte critiche, bisogna dire che anche dice che si è esterto Trump J.D. Vance è oggetto di molte critiche e mentre Walz cerca di rispondere alle critiche smorzandole, Vance invece quando risponde alle critiche le acuisce, crea ulteriori polemiche e quindi in questa fase i due capi cortata Trump e Kamala Harris sono entrambi impegnati a portare avanti la loro opposizione ma anche a coprire i fianchi dei loro vice che in qualche misura sono in questa fase più esposti di loro alle critiche. Poi la prossima settimana verrà la convention democratica e poi anche se può apparire un paradosso dopo il Labor Day del 2 settembre comincerà la vera campagna elettorale negli Stati Uniti che andrà avanti fino al 5 novembre, uno dice ma è già un anno che non si parla d'altro, sì è vero però la campagna elettorale ufficialmente dura 60 giorni e incomincia il giorno dopo il primo lunedì dopo la prima domenica del mese di settembre che quest'anno è il 3 settembre. Siamo quindi soltanto in fase di riscaldamento Gian Piero per quanto riguarda la campagna elettorale dunque parlavi della convention democratica che si terrà in cui Biden darà l'ultima spinta prima di passare ufficialmente il testimone in questa staffetta elettorale. Ecco secondo te quale sarà o almeno a quale spinta sta pensando Biden? Quale potrebbe essere l'argomento migliore da fornire a Harris per darle proprio lo slancio finale? Più politica internazionale o temi interni? Allora sulla politica internazionale temo che le lasci i risolti due problemi aperti cioè l'Ucraina e il Medio Oriente, non vedo la possibilità di Biden di risolvere questi due conflitti anche perché i protagonisti dei conflitti in particolare l'atto israeliano il premier Benjamin Netanyahu non credo abbia nessuna intenzione di fare un favore a Biden o all'amministrazione democratica favorendone il mantenimento nel prossimo quadriennio. Invece può darle una mano sul fronte delle politiche interne e del resto Biden che da quando ha rinunciato a correre fa soltanto il Presidente è di nuovo tornato a parlare di politica in un'intervista alla CBS che è andata in onda domenica sera ma di cui erano stati anticipati in molti straici in cui ripete la sua preoccupazione che il passaggio delle consegne se sarà tra lui e Kamala Harris non avvenga pacificamente perché Trump potrebbe ostacolarlo come l'aveva ostacolato nel 2020, tra il 2020 e il 2021 e poi anche se Biden sarà il protagonista della prima giornata della convention democratica lunedì prossimo a Chicago ci sarà nel giorno di ferro agosto il 15 una sortita insieme di Biden e di Kamala Harris nel Maryland proprio alle porte di Washington. Cosa può fare Biden? Può testimoniare agli elettori le cose positive fatte dalla sua amministrazione in materia di economia, in materia di società, in materia di istruzione, c'è tutta una serie di cose che l'amministrazione Biden è riuscito a fare che spesso non vengono riconosciute o non vengono percepite dall'opinione pubblica e può anche aiutarla a tenere vivo il tema che è uno dei punti chiave di questa campagna elettorale, quello dell'aborto e dei diritti riproduttivi, ma su questo devo dire che Kamala Harris su questo fronte ha molto più vigore e molta più spinta di quanto nei suoi discorsi, di quanta non ne abbia mai avuto Biden che pure è favorevole alla scelta rispetto ai provita, ma che probabilmente ha qualche remora con il suo background cattolico rispetto a Kamala Harris su questi temi. L'ultima domanda Gian Piero, brevemente parlavi di un Trump innervosito, ecco tra l'altro Trump che dopo più di un anno è ricomparso sull'ex Twitter di proprietà di Elon Musk dove tra poche ore sarà appunto intervistato da questo personaggio controverso qual è Elon Musk, un Trump appunto che non vede molta gente, non fa molte cose, cosa sta bollendo nella pentola repubblicana in questo momento? Ma un po' può esserci anche il fatto che Trump non sarà mai disposto ad ammettere, non è che la campagna di Trump potrà ammettere, che il candidato repubblicano sta tirando il fiato, perché la campagna, le presidenziali americane sono incominciate come corsa alla carabianca nell'estate del 2023, quindi è un anno che si va avanti, Trump ha dovuto affrontare non solo le primarie perché aveva degli avversari che non l'avranno impegnato a fondo, ma comunque c'erano, ha dovuto anche affrontare tutta una serie di percorsi giudiziari che sono tuttora aperti, anche se con la complicità della Corte Suprema è riuscito a rinviare sinedì i casi, i processi più spinosi e poi ha dovuto far fronte a questo fatto nuovo del cambio di cavallo dei democratici che gli ha un po' alterato le strategie, un conto era avere come avversario Biden, lo potevi colpire per esempio sul fronte dell'età, un conto è avere come avversario Harris che ti può colpire sul fronte dell'età perché sei tu il vecchio della partita in questo momento e poi dicevo tirano un po' il fiato perché lunga la campagna, la fase più impegnativa deve ancora incominciare, passerà attraverso almeno un dibattito, ma probabilmente più di uno televisivo tra Trump e Harris e probabilmente non saranno così a senso unico come era stato quello del 27 giugno tra Trump e Biden e quindi Donald Trump 78 anni compiuti forse ha bisogno di riprendere le forze per l'ultimo miglio che durerà due mesi. Poi c'è anche il fatto di dover ricalibrare effettivamente la campagna su un'avversaria, su un rivale diverso che ha punti di forza e punti di debolezza su cui Trump e Pence, il suo vice, hanno finora usato l'arma dello sfottò o della messa in dubbio degli aspetti di genere e degli aspetti razziali e non è sembrata una scelta molto felice perché è piaciuta soltanto ai trumpiani più trumpiani, ma qui il problema sia di Trump che di Pence dovrebbe essere di conquistare il favore non dei loro supporter dichiarati che sono siano il 40% dell'elettorato, ma di quelli che stanno in mezzo tra i trumpiani dichiarati e i democratici ad ogni costo o gli anti Trump ad ogni costo. Quindi Trump sta ricalibrando la sua campagna e ha trovato, trova questa spalla, forse non insperata e forse senza altro frutto di negoziati, di trattative tra i due, della variabile impazzita di queste elezioni che Elon Musk dichiaratamente prende posizione a favore di Trump, non solo ospitandolo sui suoi social, non solo levandogli i paletti che gli erano stati messi prima che acquisisse lui Twitter divenuto ora X, non solo foraggiandolo con decine di milioni di dollari, anche se la cifra di 40 non è stata poi confermata da Elon Musk al mese, ma anche dandogli spazio mediatico. Devo dire che la figura di Musk si sta rivelando non una figura che favorisce la pace sui fronti di guerra aperti e mi sembra anche che non favorisca la ricomposizione di un dibattito nazionale negli Stati Uniti meno divisivo e meno polarizzato di quello creato da Trump stesso. E sicuramente torneremo a parlare di questa campagna elettorale che come hai detto non è ancora iniziata, quindi ci sarà tempo per farlo e nel frattempo Gian Piero Gramaglia grazie e buona serata. Grazie a te Andrea e una buona giornata a chi ci ha seguito. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.